Grazie a tutti. Però per far vedere il ruolo di azione civile bisogna fare brevissimamente un po' di storia per capire. Credo che la storia di azione civile finora si sia caratterizzata su due assi cartesiani, su due aspetti. Cioè da una parte eccellenti iniziative, presenza nei territori, ne abbiamo parlato la Nadia, l'ha parlato Giussi, e contributi a lotte politiche e sociali. Non l'ultima è quella della battaglia referendaria a cui il nostro Presidente ha dato con il suo libro un'importante spinta alla vittoria del Nord. Abbiamo visto quanta gente c'era e quante persone hanno capito anche da una prospettiva diversa che cosa significava questa riforma, che veniva da lontano, che veniva da Gelli, eccetera. Dall'altra parte però c'è una serie di occasioni perse, di treni che sono passate nella nostra stazione e in cui noi non siamo mai saliti. E questo ci ha impedito, è quello che ci ha impedito di fare quello che c'è nel nostro statuto all'articolo 1 che si chiama rivoluzione democratica, che era questo progetto di incontrarsi, di fare delle cose insieme, eccetera, eccetera. Poi c'è stato un momento in cui noi abbiamo creduto di individuare questa nostra rivoluzione democratica nell'altra Europa. In quel momento non ci sbagliavamo perché i presupposti c'erano tutti, c'erano degli intellettuali importanti che l'avevano lanciata, sembrava ci fosse una parte sostanziale di movimenti, di espressioni della società civile. Però poi ci siamo accorti che praticamente dentro c'erano le stesse contraddizioni, gli stessi difetti e tentativi egemonici che c'erano anche in rivoluzione civile. E anche qui secondo me abbiamo perso già un secondo treno. Perché? Perché siamo usciti molto tardi, perché alcuni di noi insistevano per uscire già a gennaio del 2015, ma noi siamo stati un po' attendisti, abbiamo aspettato che sei mesi, che ci fosse a giugno questo congresso, non mi ricordo che fu un congresso fondativo, forse si chiamava, dell'altra Europa, di cui praticamente si sapeva già come si sarebbe concluso, visto come avevano posto le cose al loro interno. E finalmente siamo usciti, anche perché abbiamo visto che era uscita Barbara Spinelli e cose di questo genere, ci siamo convinti ad uscire. E qui c'è un terzo treno che abbiamo perso, perché nel momento in cui siamo usciti potevamo di nuovo fare questo progetto di rivoluzione democratica, cioè mettersi in quel percorso che intanto altri, fuori usciti prima dall'altra Europa, avevano messo in campo e già facevano rivoluzione democratica, cioè mettevano in intersezione fra di loro movimenti, un po' come sta facendo anche Luigi De Magistris a Napoli, ora con i centri sociali, con i comitati. C'era questo fermento, noi secondo me se fossimo intervenuti lì, anziché dire usciamo dall'altra Europa ma non andiamo a nessun'altra parte, siamo rimasti un po' a osservare, forse avremmo potuto dare una spinta e guidare nel senso buono, nell'accezione buona del termine, non metterci il cappello sopra, questo processo che stava andando avanti. Dove c'erano appunto cittadini, persone, non c'erano i partiti, perché non c'erano i partiti, non perché nessuno li scudesse, perché i partiti avevano e hanno anche oggi un altro percorso, che è quello di fare una grande sinistra unita e presentarsi alle elezioni con la solità lista da offrire alla base che non partecipa ma è solo il bacino elettorale che deve dare il voto e poi pian piano, anno dopo anno, crescere col consenso elettorale e arrivare al governo, arrivare in questo modo, con una scalata diciamo elettorale. E anche qui appunto dicevo avevamo l'opportunità di fare questo e invece si è scelto di non fare niente oppure di dire stiamo un po' con tutti quelli che fanno delle cose giuste, che è giusto, ma è giusto sul piano della pratica politica, delle lotte politiche, proprio queste lotte politiche devono essere inserite in un percorso, in un progetto che ha delle tappe, che dice come si arriva all'alternativa. I partiti ce l'hanno, meno male, quello che ho detto prima, fare la sinistra, andare alle elezioni, eccetera, eccetera. Ho già detto, l'ho detto 5 minuti fa, che noi proponemmo qui in questa assemblea di inserirci in questi percorsi un'altra volta, cioè alla fine del 2015, avevamo anche approvato in un certo senso per aiutare questa transizione delle modifiche statutari che rendevano più elastico il nostro movimento e che in parte lo rendevano meno verticistico e che avrebbero reso quasi conseguenziale, quasi coerente questa scelta. Ma anche lì non è stato recepito e si è continuato a dire stiamo a vedere perché se no ci precludiamo quello che può succedere. Dobbiamo vedere che cosa può succedere. L'occasione, forse l'occasione di cui parlavo prima, c'è l'occasione per cui poterci in un certo modo rilanciare. Così azioni civile, e qui secondo me il discorso lo vedo ribaltato rispetto a quello che ha scritto nella relazione del Presidente, azioni civile si è andata via via configurandosi da una parte come quasi una società di mutuo soccorso, cioè senza una strategia politica, ma partecipando giustamente in tutte le lotte dando il suo massimo contributo. Però una strategia politica non è una sommatoria di lotte giuste. E poi dall'altra come, ecco, noi siamo già quasi un circolo culturale, giornalistico, che sforna comunicati, articoli, interviste, siti, gruppo di studio, giornali online, però non incidiamo minimamente sul cambiamento. Allora questo è il discorso. Noi dobbiamo tornare a fare politica. Il problema non è che dobbiamo diventare un circolo culturale, lo siamo ora secondo me. dobbiamo cominciare a far politica, andare nei territori, andare nei territori tra i disoccupati, i disfrattati, tra i precari, tra i profughi, gli immigrati, tra chi lotta per l'ambiente, dalla Sicilia del Nomos fino alla Val di Susa dei Notav. E promuovere in questi territori delle grandi assemblee popolari a cui la gente si incontra, ma non per aderire a un comitato, per aderire a un nuovo contenitore, ma per confrontarsi fra di loro e parlare di essere finalmente in maniera attiva a riaffezionarsi alla politica partecipata. Perché io penso che è da lì che arriverà il vero cambiamento, da questi grandi movimenti, dalla base sociale che stanca appunto di essere soltanto il bacino elettorale per i professionisti della politica. E questi spazi, come dicevo prima, devono essere realmente neutri, senza avere già un nome, comitati per il no, un obiettivo o anche una casa già che per meno c'è anche nei comitati. La partecipazione deve essere a livello individuale, senza per questo però rinunciare ognuno alla propria appartenenza. E io sinceramente mi meraviglio che si definisca questo percorso la lunga marcia nel deserto. Ma chi lo dice? Da cosa si deduce che sia così? E che non sia invece il contrario? Le esperienze europee, pensiamo alla Spagna, ci dimostrano che da questi percorsi che è nata la possibilità in pochissimi anni di arrivare velocemente a governare le municipalità tramite un ritorno di consenso anche elettorale. Non certo altrettanto attraverso le solite alleanze elettorali che invece sono state la conseguenza di un lavoro fatto sui territori. E io penso che questa sia la strada e su questo i ragionamenti nella terza parte dirò secondo me il discorso ci sciogliamo, non ci sciogliamo, cambiamo, che cosa bisogna fare per recuperare gli argomenti e lo dirò dopo. Da bene? Grazie. Grazie.